video? si ho messo a fuoco manuale siamo in camera oscura come potete vedere abbiamo già stampato alcune foto questa è molto molto figa e il signore qua si sta comportando molto bene incredibilmente ancora non ho bruciato niente ora la seconda che stampiamo è quella con i piccioni perchè poi se no c'è quella di brixton dell'accontellato che mi piacerebbe stampare quella è un po' complessa infatti quella di piccioni un attimino mi piacerebbe lavorarci un po' il saggio è qua notare gli splendidi toni di questo ci piace molto questa foto chiudiamola ok si si andiamo a lavarlo a distante ti dirò una cosa la scelta del formato più grosso non mi dispiace non è che a me non è che a me non è che a me è la scelta del formato più grosso e ora dobbiamo stampare una signora questa qua ci ha mai fatto il provino provino questa qua Sì, queste esposizioni All right Premi di nuovo ok per rifiutare Per chiudere? Sì Ah che brutta è un'inquadratura che c'è al 28 Devi fare un po' di fuoco Eh lo so